Best Magazine TV i prodotti di Temeral offerti dall'azienda H2O vince un paio di occhiali Atina e poi tutti gli altri gadget bene, una bella sfilata Beatrice grazie ecco le parrucchere le nostre style vieni qui sosteniamo l'attestato di classificazione terzo classificato foto di rito con le nostre tutti i tuoi regali prodotti bene foto di rito con le parrucchere un po' più avanti ragazze venite venite avanti non abbiate paura ok passiamo alla seconda classificata cinque punti in più Oscar vieni è la tua Miss questa Miss H2O 2O Melissa stai lì vieni anche tu qui abbiamo il microfono si ce l'hai allora ti consegno l'attestato per il gruppo dei parrucchieri il salone ha vinto con cento trenta punti la numero sei soddisfatto? certo la numero cinque Jessica Dalbo vieni Jessica anche perché lascia passare per la finale coroniazza Oscar premia il salone che è salone you and me no contrario di qua così 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 eccoci qua perfetto foto di gruppo benissimo anche per te i prodotti H2O un gadget Atina eccoci qui chiamiamo anche i parrucchieri Oscar salone salone you and me Mariangela e eccola eccola qui l'attestato foto di gruppo anche con Mariangela e adesso grazie ragazze passerella vai Jessica Sindaco questo è il suo attestato Otega chiuso grazie grazie Jessica allora ha vinto di un punto soltanto ha vinto di un punto soltanto sindaco 131 punti c'era un detto per un punto Martini perse la cappa in questo caso l'ha vinta 131 punti facciamo un totomis io lo faccio sempre numeri 4 3 3 3 3 4 e 11 9 allora beh posso dire che la vincitrice è tra un numero tra l'1 e il 12 ok è tra un posto tra l'1 e il 12 giusto sindaco fino a qua non si piove non è la numero 5 e non è la numero 12 perché hanno già passato il turno neanche la numero 8 perché si è ritirata non è stata bene 3 3 e il 131 punti vince la numero 3 Asia Martignani vieni Asia vieni Asia vieni Asia con il salone sindaco vediamo il nome dacci un taglio dacci un taglio by Roby eccola qui la nostra Asia la incoroniamo sindaco questo è per te Roby vieni pure il tuo lascia passare per la finale di Miss Venice Beach mettiamo bene la fascia eccola qua per te una borsa baggy Miss Baggy foto di gruppo un costume voi sola e anche per te un gadget at in a e i prodotti H2O passerella Asia grazie ragazze bacio basso un po' questa musica perché non ho più fiato allora mettiamo le tre vincitrici centrali Melissa stai qui con noi che facciamo una foto tutti assieme le altre ragazze sindaco Giorgia venite anche voi venite anche voi più avanti così ci state tutti assieme mettiti mettiti la in fianco ok sindaco vicino alla Miss ci siamo eccoci qua il grand'angolo c'è un bel sorriso per la stampa grazie grazie a tutti ci vediamo il prossimo anno sindaco ormai un appuntamento fisso la prima tappa non si scorda mai sempre qui a Jesolo un ringraziamento a tutti voi che ci seguite vi ricordo il nostro sito www.missbanis.it e il nostro programma settimanale ogni sabato sera in prima serata a Giorgia a Giorgia a Giorgia a Giorgia a Giorgia a Giorgia a Giorgia